Siamo con Mauro Sereni, vincitore nella categoria Customer Relationship, una riflessione sull'importanza della relazione con i clienti per la figura del consulente finanziario. È tutto, la relazione è quella che ci permette di instaurare un rapporto di fiducia, di far capire al cliente che noi facciamo un lavoro ma lo facciamo anche nel suo interesse e se il cliente non percepisce questo non resta cliente. Quindi noi dobbiamo lavorare ovviamente per sostenerci ma allo stesso tempo per dare un valore enormemente aggiunto mi preme di dire alla clientela che non è solo risultati sugli investimenti ma anche assistenza nelle varie fasi che la vita dell'investimento può avere, consigli e consulenza su quello che il cliente fa con altre banche perché non è detto che il cliente abbia tutti i soldi con noi e quindi a volte è necessario intervenire in amicizia anche su quello che ci sono presso altri istituti. Quindi la relazione è fiducia, la relazione è alla base del nostro lavoro, senza di quella secondo me non si può fare un consulente finanziario. Siamo con Marco Conti tra i vincitori nella categoria Top Entry, vogliamo sapere da lei un po' le emozioni del premio e le emozioni della sua nuova avventura professionale. Sicuramente sono molto emozionato, è una cosa che non mi aspettavo e direi che il cambiamento che ho fatto passando da una banca tradizionale a WeDiva è stato veramente epocale per me, anche perché in WeDiva ho visto il futuro e devo ringraziare proprio l'ambiente in cui mi trovo perché mi hanno dato le condizioni e la possibilità e il modo migliore ideale per poter lavorare al meglio e per ottenere il risultato che ho ottenuto.